Il ministro per l'Africa italiana, Sua Eccellenza Lessona, accompagnato dal prefetto, dal federale e da altre personalità, presenzia nel cantiere navale Ansaldo il varo della prima nave bananiera della regia azienda Monopoli Banane, che entrerà in servizio il 15 settembre prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.